Stacca molto in alto Sì, questo è bisogno di perdere Sì, sì, sì 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 Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì Sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì 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 Sì, 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 sì Sì, 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 sì a casa di Gianni ma ci guardavo perché è via Gras a romper l'Aurano però prima la faccia è andata su di cinema e tra tempo quasi si ferma e sa che arrivò su qui con 20 cm di nere cade il filo e la cima è andata e adesso non so la vista va che è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto se vuoi lasciarlo giù anche mezzo centimetro fai pure allora spasso gli equivoci retro freno di stazionamento però per partire le comandate vieni ok grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti